In questa lezione vedremo una tecnica che dal punto di vista teorico è molto complessa, la cui però realizzazione è decisamente veloce e molto efficace. Vediamo com'era il file originale e vediamo come risulta la pelle dopo il ritocco. Il vantaggio di questa tecnica rispetto ad altre che girano abbastanza spesso in rete e che prevedono filtri di sfocatura e quant'altro per andare a lisciare la pelle è proprio che mantiene una texture credibile della pelle. Quanto andare ad attenuare la texture e quanto mantenerla dipende esclusivamente da noi. Cancelliamo perciò tutti i livelli del file e vediamo come possiamo andare a metterla in pratica. Per prima cosa dobbiamo duplicare il livello di sfondo. Andare a invertirlo con mela i o ctrl i sub c e andare a impostare il metodo di fusione su luce vivida. A questo punto dobbiamo andare ad utilizzare il filtro accento a passaggio, già visto in lezioni precedenti, e dobbiamo andare a scegliere un raggio in pixel che sia tale da andare ad eliminare del tutto i difetti della pelle. Con difetti della pelle in realtà mi riferisco più che ai difetti veri e propri alla texture della pelle che non deve essere eliminata ma semplicemente ammorbidita. Perciò cominciamo ad alzare il raggio pian piano. Vedete che per esempio adesso si vedono ancora i pori, perciò significa che non è sufficiente. Direi che questo mi va bene, questi puntini sono normali, è un... deriva dal fatto che abbiamo utilizzato il metodo di fusione luce vivida. Guardiamo perciò un po' in giro per il viso e vediamo che bene o male tutti i difetti sono stati completamente annullati. Diamo l'ok. Il secondo filtro che dobbiamo applicare è il filtro sfocatura, controllo sfocatura. Per assurdo andando a sfocare maggiormente andremo a recuperare sempre più dettaglio. Fino a recuperarlo del tutto se esageriamo. Perciò dobbiamo andare in questa fase a decidere quanta texture vogliamo mantenere sulla pelle. Prendiamo magari una zona abbastanza piatta come la fronte, lasciamo stare il naso, le guance, il mente e quant'altro. Possiamo tranquillamente andare avanti fino a trovare il limite oltre il quale non serve più, oltre il quale questo filtro non ha più effetto. Direi che in questo caso 4 pixel potrebbero andare bene. Diamo l'ok. Ora vedete cosa è successo? La pelle è migliorata su tutto il volto. Possiamo anche andare a zoomare un po' per vedere il prima e il dopo. Prima e dopo. Vedete che la texture originale della pelle è stata mantenuta. Il problema è che anche i capelli per esempio risultano sfocati in qualche modo anche gli occhi e tutte le parti che noi invece vorremmo mantenere a fuoco. Perciò andiamo a creare una maschera tenendo premuto il tasto alt, perciò creando la nera. Prendiamo un pennello bianco, abbastanza grande e abbastanza morbido e con questo pennello andiamo a dipingere sulla maschera per far apparire il livello sottostante, cioè quello dove c'è il ritocco della pelle. Possiamo variare la dimensione del pennello per quello che serve a noi. L'unica cosa a cui dobbiamo stare attenti è quella di non andare a prendere dei bordi del viso, per esempio il bordo dell'occhio, perché vedete che va a togliere contrasto, ad appannare e questo è esattamente quello che vogliamo evitare. Perciò torno indietro e continuo a dipingere sul viso. Anche queste zone qui dove ci sono delle... Chiamiamo le rughe di espressione, anche se non si possono proprio definire rughe, vanno trattate con una certa cautela, perché vedete che sì la pelle migliora, ma io vado anche ad appiattire le ombre della foto. Questa tecnica in effetti funziona bene un po' su tutti i ritratti, a prescindere dalla luce, ma dà il meglio di sé dove non ci sono forti variazioni tra luce e ombra, perciò dove la luce utilizzata per fare il ritratto è abbastanza morbida. Non è che non si può utilizzare dove c'è una luce dura, ma bisogna semplicemente prestare più attenzione. State attenti anche a non prendere questi bordi, perché vedete l'effetto come è poco gradevole. Alcuni difetti andranno poi comunque trattati in modo separato, ma direi che comunque vedete che con pochi passaggi di pennello otteniamo un risultato che è già molto buono. Eccoci qui, valutiamo perciò il prima e dopo. Prima e dopo. Vedete che la pelle risulta notevolmente migliorata mantenendo comunque una certa texture che in effetti è la sua texture originale, perciò non c'è niente di artefatto. Per limitare un po' questo effetto, se necessario, possiamo andare ad abbassare un po' l'opacità per far emergere quello che c'è sotto. La tecnica di per sé è finita. Nelle prossime lezioni vedremo come renderla editabile e come poterla applicare in automatico. Per finire un attimo questo esempio, possiamo andare a creare una coppia dei livelli uniti con Mela Alt Shift E, andare a riapplicare il filtro maschera di contrasto per quanto riguarda il miglioramento degli occhi. Qualcosa di questo genere. Andiamo a creare una maschera nera. Con il nostro pennello bianco facciamo riapparire solo dove ci interessa questo effetto, perciò sugli occhi. State attenti a non far apparire questi puntini perché sono molto fastidiosi. Meglio stare piuttosto un po' indietro che non esagerare. Un punto di luce ci sta, ma vedete che dovete prestare una certa attenzione. Perciò se sbagliate pennello nero, invertite e andate a correggere quello che avete fatto. Se necessario Alt Click sulla maschera, possiamo anche andare a dare una leggera sfocatura alla maschera. Perciò filtro sfocatura, controllo sfocatura, di modo che l'intervento si vada a fondere meglio con il resto dell'immagine. Adesso potremo andare a migliorare, come ho visto nelle lezioni precedenti, il contrasto generale. Prima però ci conviene, se è una cosa che dobbiamo fare, andare a rimuovere un po' di occhiaie. Perciò creiamo una coppia dei livelli uniti, come al solito, male alti shift E. Andiamo a prendere lo strumento toppa. Uno E due Deseleziono Dobbiamo evitare assolutamente questo genere di bordi, perciò in questo caso creo una maschera di livello e con il pennello nero morbido, questa volta molto morbido, vado a ammorbidire il contorno. Oltre a questo, tipicamente conviene andare ad abbassare di molto l'opacità, se serve magari utilizzandola anche in schiarisci. Vediamo un po', un po' di più. Vedete che il risultato, per quanto si noti il ritocco, è decisamente naturale, nel senso che noi non siamo andati a eliminare o a ricostruire parti della pelle o a sfocarle, peggio ancora, ma siamo semplicemente andati a togliere del micro contrasto, ossia il contrasto che rende la pelle meno liscia percettivamente. Ma oggettivamente se noi andiamo a guardarlo al 100% vediamo che i dettagli ci sono ancora tutti e non siamo andati a ricostruire niente e ci abbiamo messo veramente poco.